Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea, una prospettiva potente sulla lotta per l'identità, la sopravvivenza e la speranza in mezzo a contesti difficili. Attraverso la storia il romanzo esplora archetipi che parlano delle vite di tutti noi e circa un punto di verità dove la generosità e l'amore possano ancora trovare spazio e significato. La trama del libro Il ritorno dello scrittore Marco Vichi, casa editrice Guanda, è la seguente. In questo romanzo incontrerete una donna nata bambino che per non rinunciare alla propria identità più autentica dovrà attraversare l'inferno, quello costruito dagli uomini sulla terra. Sarà costretta a fuggire da molte gabbie, liberandosi da pregiudizi, malignità, umiliazioni, violenza. Sopporterà i tradimenti più dolorosi e la solitudine più estrema. Lontana da casa, sprofonderà nell'orrore e nello strazio della guerra dei Balcani, simile a una delle tante guerre che ammorbano questi decenni di pace apparente. Nella sua storia senza respiro, ogni affermazione e ogni negazione vengono rivoltate, amplificate, distrutte e poi sognate. Nel tentativo folle di arrivare a un punto che sia almeno un poveritiero. Un luogo dove chi è generoso e sa amare abbia ancora diritto all'esistenza. Questa donna che non cede, che non si corrompe, che sa vedere, persino sorridere, e giocare, ha un nome semplice, si chiama Maria. Non è frequente, ma a volte succede che ci siano persone come lei e storie come la sua, nelle quali gli archetipi si manifestano e parlano delle vite di tutti. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.